Ciao creatura Io sono Eccati Splendente e benvenuta o bentornata nel regno di Cosa è? E-S-M-A Finalmente, finalmente è giunto questo momento ovvero, mangiamo si mangia, ok? Soprattutto cosa? Questi fonzis che, tra l'altro, io avevo mostrato nel catalogo di Aldi so che avete visto perché quel video vi è piaciuto tantissimo e sono molto contenta di Gio e poi un sacco, un sacco di voi su Instagram mi hanno taggata mi hanno inviato messaggi privati con le foto di questi fonzis e ma Eccate non l'hai assaggiato? Non dimmi che queste non le hai assaggiate ancora no ma le avevo comprate per assaggiarli in un video e stavo appunto attendendo la possibilità di fare un video assaggio con te, creatura già solo la confezione è bellissimo, devo dire è sempre una testa tipo il capo di Art Attack perché ho lo sfondo nero e la maglia nera mi chiedo scusa però questa è la mia opportunità di fare il video e non sto qua a cambiarmi però mi sono truccata ovviamente mi piace troppo farmi adesso dato che ho l'occhio molto molto incappucciato come pensai è una forma molto particolare posso farmi eyeliner cose del genere e ho deciso che io mi farò la linea sotto così mi piace molto e penso che contorni bene il mio occhio e credo che sia il make up definitivo quindi me lo farò sempre con magari colori diversi che ne pensi famelo sapere nei commedi mi raccomando so che tu sei esperta e poi ti piace dire la tua opinione al riguardo e io voglio ascoltarlo cioè leggerla più che altro allora andrò a assaggiare queste queste anzi che sono fonsis maschile o femminile non si sa comunque dice croccantini di mais e c'è scritto al formaggio al formaggio è barrato perché sono gusto lime e cocco spero che si vedano gusto lime e cocco logo edition con questo teschio questo teschio messicano non fritti se non ti le chile di dita godi solo a metà vabbè la classica frase con l'impronta digitale verde però è verde e nera la confezione quindi top ottimo forse mi piace questa grafica approvata like splendente allora c'è lo zucchero non ho letto gli ingredienti però sì c'è lo zucchero sì quindi saranno dolci vabbè per forza non sono il formaggio vabbè non importa erano usciti anche quelli al cioccolato e non li ho mai assaggiati sono molto dilusa da me stessa per questa cosa però questi fanno dissimamente più volte a cocco e lime dai basta parlare perché io voglio assaggiarli assolutamente c'è anche Sam Sam se puoi salire puoi associarli anche tu all'interno si presentano così sono verdi è arrivata Sam non si vede ma c'è Sam qui 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 shhh sono belli verdini l'odore è strano sembra plasticoso quindi odorano di torta facciano usare Sam così capisci cosa stiamo mangiando Sam non sei zitta shhh niente va odorano di cioccolato bianco una torta dolciocco bianco cocco poco non so sanno tanto di lime di cocco non so bene Sam mi sta assaggiando anche Sam io sento tanto lime non sento il cocco avevo visto dei video dove dicevano buonissimi bla 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 qualcuno mi aveva spoilerato sui messaggi privati di instagram che non sapevano di cocco si sono attivate anche le fuse di Sam nel frattempo si vede che le piacciono non sono mali ma non sono di cocco forse ne devo mangiare di più mi ha attaccato Sam non sono dolci io il cocco non lo percepisco per niente mi dispiace perché sarebbero stati buoni Sam mi diriggio tutto Sam ne vuole ancora a Sam mi sono piaciuto di tanto mi ha fatto anche così con l'occhiolino vieni su qua vieni da questa parte a Sam mi piacciono tantissimo però non sono male è che sono solo di lime sono immaginati i fonzis salati normali io pensavo fossero dolci con questo retro gusto di lime un po' aspro però buono e ti si vede anche meglio dove si è andata a sporcarti tutti i friccioli qua è una bricciola sul naso Sam è una bricciola sul naso aspetta ecco stiamo a fare il video assaggio Sam allora adesso te lo do un occhio oddio questo viaggono un sacco di lime allora fonzis la tua idea era buona però devi aggiungere più cocco sta mi stanno arrivando delle testate per avere a sé però i gatti piacciono molto eh patti il 5 sorella patti il 5 sorella apriamo questi adesso che sicuramente piaceranno di più sono queste patatine patatine di Halloween al gusto formaggio bacon a forma di pipistrallini aiuto microfono microfono aiuto semmi mi fai cadere davvero torna di qua mettiti qua questo che si fa bene allora sono mi sta per arrivare una zampata perché lei pensa che stia mostrando a lei in realtà sto mostrando in videocamera però lei può venire rossa allora allora fa una forma di pipistrello tutta sporca di bricio le assaggio prima io perché sono la divinità buoni adesso assaggia Sam aspetta aspetta wow questi sono un sacco di pecone di formaggio questi top questa sarà una puntata di Sam ed Ecc si assaggiano così ha fatto dei suoni di godimento fa anche mastica però sai patetina mastica sai mastica si è tutta spriciolante cosa è successo guarda il mio microfono è pieno di pelucchi chissà come mai mettiti quasi tutto a fare brava perché ogni tanto la tua faccia sparisce allora come terza cosa da assaggiare terza cosa questo video sarà un po' caotico sarà un video extra ho comprato il gelato di Halloween dell'Idle lo vado a prendere che ce l'ho in freezer e vado a prenderlo aspettami qua creatura tanto per te sfumiamo poi torno subito Sam intrattieni il nostro pubblico ma tutta piena di prezzoli come è andato sto gatto e scusate i lamenti questi sono i gelati di Halloween che ho acquistato e c'è scritto coni neri con vaniglia e lamponi e gelato no? e sono creepy cute pastel ghost chiamateli come volete hanno il cono nero e hanno dall'immagine la parte di gelato vaniglia rosa e verde con dei zuccherini immagino non lo so dei confettini colorati sopra la confezione è molto carina io volevo anche quelli tutti neri che erano al cioccolato ma non li ho trovati c'era l'ultima confezione che era questa e allora ho preso per forza questo è il packaging con questa cupola di plastica per gli alimenti che c'è il simbolo e che protegge la parte della crema adoro bellissimo mi dispiace che ci sia questo spreco di plastica però è carino oggettivamente è carino con la carta arancione con scritto Halloween mi sta guardando si è seduta lì sul letto mi guarda come vedere che si mangia adesso andiamo ad aprirlo insieme si scartoggia che bello scapocchiamolo scapocchiamo ma che bello ma che brava ma che brava ecco bellissimo immaginate come faccio adesso giustamente no vabbè è bellissimo guarda è proprio come la confezione si questa è come la confezione profumo di lamponi pochimici se mi sta guardando così scrutando per capire se si mangia o se è solo una cosa carina ok vado assaggio il cono è marrone scuro 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 quasi nero sarà il cioccolato è molto chimico ma mi piace perché ci sta dai non puoi pretendere che sia frutta vera cioè sarà sciroppo al lampone credo che la crema indipendentemente dal colore sia la vaniglia e ci sia questa si vede si variegatura al lampone un po' aspro non è troppo dolce ci sta bene in contrasto con la crema alla vaniglia mi piace e poi è bellissimo sembra quello dell'acida unicorno che non ho mai trovato nessuna parte tra l'altro i confettini non capisco se è solo zuccheroso o se è tipo di sostufiato hanno hanno una bella consistenza ma non hanno tanto gusto si sente principalmente il lampone sono curioso di arrivare al cono per sapere se è a gusto di cioccolato o se è una ciota normale colorata ma che bello e se la vicino c'è troppa luce devo farvi vedere così il colore non me ne aspettavo così poi sembra quasi un marshmallow al lampone la cosa di cui avevo meno aspettative è stata la più buona ovvero il gelato che non si sa era super casata ma invece 1,45 euro cos'è? sì buoni ma non sono di cocco io l'ho preso perché se ce l'ho scritto cocco se non potete scrivermi cocco e non so di cocco quanto cavolo è bello? ne parliamo ma la vera domanda è la punta ripiena o no farò l'errore di morderla per questa perquisita ma sembra un'interessata è andato via buono ok siamo arrivati alla cialda a il coro assaggio un'interessata un'interessata questa faccia perché sa di cialda normale, ma forse un po' più amara del solito, quindi forse c'è un po' di cacao, però non vorrei che sono influenzata dal colore, perché a volte così succede, il colore mi influenza magari il sapore, perché sono speciale. Perché sono facilmente suggestionabile? Probabilmente sì, infatti come ho già detto altri miei amici, quando vedo i VGSMR dove qualcuno soffia o spruzza qualcosa verso la telecamera, io sento l'aria in faccia e sento le goccioline d'acqua, il mio cervello come funziona, ditemi che problemi ha, ma succede anche a te, creatura. Io vorrei sapere, sono l'unica qua speciale del club. È un cialdo normale, secondo me è un cialdo normale, però non so se è sempre più amara perché ce l'aveva i gustoni. Andiamo a leggere, ci sarà scritto. Allora, gelato al gusto di vaniglia, 35% e 35% gelato al gusto di lampone con 5,3% salsa al lampone. In 14,7% gelato al cacao, eccola, ecco cos'è quel retro gusto amaro, ci sarà il cacao amaro. Decorato con 1,2%, hai preso appunti e hai fatto i calcoli se risulta a 100%, io no. Granella di zucchero rossa e blu al gusto, ah, il gusto di fragola era la granella. No, io non ho sentito il gusto di fragola. Con 0,8% palline di cereali, ah, c'erano palline di cereali. Estrusi ricoperti di cioccolato bianco colorato, quello sì che l'ho sentito, c'erano di cereali. Sono intelligente. Non c'è da stupirsi perché è così. Vabbè, non resisto, devo mordere la punta. Non di solito non la faccio, ma sono curiosa di sapere se c'è qualcosa in te. C'è la punta di cioccolato, guarda. I piaceri della vita. Questa sì che è una sorpresa molto bella, mi fa piacere, guarda. Cioè, se è ancora una salsa appunto di cioccolato, andate a quel paese, insomma. Cioè, deve esserci per me, è bellissimo. Cioè, ho deciso che è così. Cioè, ho deciso che è molto bella. Praticamente con sem. Meglio che sem non sia salita, perché sarebbe stato un casino. Tagli un po' di cioccolato, come facciamo. Mi dispiace perché per questo Halloween avevo preparato, programmato un sacco di video. non ho potuto tirarli, perché non sono mai rimasto a casa, perché ho avuto sempre impegni tutte le settimane. Causa di forza maggiore, ecco, così che potrei esprimere il motivo. E quindi, niente. Perché mi sembra inutile farli uscire poi a novembre. Anche perché per novembre ho già delle altre idee. Quindi, casomai le terrò per i mesi in cui non ho idee, che non esistono. Quindi, vabbè, passiamo al prossimo ora. Qui c'è un altro po' di, come che non ho chiamato, salsa al lampone. Questo è il boccone del re. Del prete, come si diceva. Scrivevano nei commenti. Qui c'è tutto quello che è il riassunto del cono. Perché c'è il gelato, c'è la salsa al lampone, mancano solo i confettini, l'acciata e il cacao. Cioccolato. Ok, vado a farlo un uico boccone. Buonissimo. Buono anche sto cioccolato. Buono, buono. L'Ital questa volta è top, super top. Ma anche le patatine non erano male. Ho mangiato anche le crocchette alla zucca. Buonissime. Erano, allora io me le aspettavo diverse. Me le aspettavo della consistenza delle crocchette di patate. Quindi, un po' più solide di quelle che in realtà erano buonissime. Dentro in realtà era tipo una crema di zucca. Quindi, quando andavo a morderla, dentro era tutta cremosa. Buon, 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 buonissima. Zucca e cipolla. E c'erano questi pezzettini di cipolla. Che ci stava bene perché dava un gusto più... Un po' salato. Invece la zucca era molto dolce. Buonissima, però, veramente, quelle crocchette mi hanno stupito. Non era una novità, c'erano da tanto. Però, io non le avevo mai trovate in negozi, erano sempre tutte finite. E quindi, le ho comprate subito, appena le ho viste. Buonissime. Capisco adesso perché finivano subito. Valgono proprio. Spero che questo video ti sia piaciuto. Creatura, fammi sapere nei commenti cosa ne pensi, tutto ciò che è stato detto. Io ti auguro buonanotte, buon relax. Ciao, creatura.